Allora, come vedete ci sono voci diverse, abbiamo sentito il climatologo, abbiamo sentito il Nobel per la fisica, abbiamo sentito una ragazza che crede con la passione di poter fare la differenza, e meno male. Ora sentiremo un'altra voce, nel senso che il prossimo ospite è una leggenda dello sport, due medaglie olimpiche, sette mondiali, sei europee, la vita, la sua vita, diciamo che è un esempio di perseveranza, dedizione, impegno, insomma diciamo che per tutte queste ragioni, ma anche perché noi lo amiamo profondamente, si è meritato il nome e il titolo di cittadino onorario di Macondo, signore e signori, Yuri Keki! Get up, now I know, get up, now I know, get on the scene, like sex machine. Oh, wow! Yuri Keki! Grazie. L'ho visto? Cioè te la cavi non male anche tu con la gambetta? Perché l'ho provata a dieci minuti qui lì, ho provato , meno male è venuto bene perché... Bravissimo, posso dire anche molto sexy? Sì lo puoi dire. Vabbè, adesso che ore sono? Posso? Sì, posso. Allora, Yuri Keck, grazie per aver accettato questo invito Sei cittadino ronario di Macondo Questo mi fa molto piacere È una responsabilità Qual è e dov'è il tuo Macondo? Oh, eh Il mio Macondo sarebbe in un posto dove c'è rispetto per il territorio che ti circonda E soprattutto mi piacerebbe iniziare delle piccole cose, no? A me piace molto quando c'è educazione, quando c'è appunto rispetto Io odio quando... già fumare fa male Poi la cigaretta, la cicla, è una cosa che non sopporta Io sono un ciclista, mi piace andare in bici Quando mangi la barretta poi butti la plastica Perché? Mettila in tasca, non pesa Credo che sia molto importante iniziare delle piccole cose Perché da quelle piccole poi si costruiscono quelle portate Macondo è pulitissimo, guarda Sì, controllavo, quindi... Bravissimi, no? Poi la nostra patumiera e spazzatura sono diventati gli strumenti Quindi meglio di così Sì, ho visto, quello è gazzissimo È gazzissimo È gazzissimo, è poi toscana C'è un sacco di toscani da queste parti Bentornati a Macondo Sono in compagnia dell'Uomo degli Anelli Anche così conosciuto ovviamente L'unico e solo Yuri Chechi Allora Yuri, durante la pandemia Durante il lockdown Noi tutti giù a cucinare Pasta fresca tirata a mano I biscotti pazzeschi lievitati Con 48 non sapevamo più cosa inventarci Bene, noi facevamo questo Mettendo su anche qualche chilo Lui faceva questo Ecco, 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 guarda, 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 guarda Questo è quello che lui faceva per passare le sue giornate giustamente Ecco, ecco, questo simpatia, guarda, questo simpatia Ecco Bravo questo, bravo Bravo questo signore Guarda, guarda, Yuri, questo com'è? 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 Eccolo lì Com'è? Ha capito? Mentre voi guardavate le serie su Netflix, questo che faceva? Ecco No, ecco, questa cosina sì Ma proprio questa c'è la spalla Io ho sentito un strac Un pochino anch'io E poi eccola qua La plank in diagonale Quindi io ho grandissima invidia Allora abbiamo pensato Ecco giustamente gli anelli Su questo giochi in casa Giochi facile Ci piace vincere facile Allora dato che invece a me non piace vincere facile Oh Attento Ah si? La metti proprio così Perché ho deciso di presentarmi All'olimpiadi di Parigi 2024 Specialità? Allieva di Yuri Keki Esiste? Allora Scusate togliere la giacca Allora dato che io abbiamo visto Scusate la giacca tosta E allora Ecco Allora Io la verticale così Non la pompata Non la posso fare Però ti posso fare un tripod La verticale tripod Adesso vabbè Follina Siamo in diretta ragazzi Non è una parolaccia tripod Cioè un tipo di appoggio Vado? Vai sul tripod Madonna in diretta? Oh la voluta te questa cosa qua? Sì sì hai ragione Tranquillo vediamo Eh prima dei capelli Anch'io spesso Ma che si fa Per canta Dove vai? Ah 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 Yuri no Vieni qua Allora Perché la mia frustrazione massima Dovete capire Che quando sappiamo No Io non posso farla verticale Sulle braccia Aspetta C'ha Yuri Keki qua Che fai? Non fa le verticale sulle braccia Ma secondo te Cioè Non è Cioè tu non sai Devi nere la mia destra Che già mette ansia Sulla sinistra Ecco Ti dico due cosine io? Sì Gentilmente appoggia le mani Tripod È troppo facile Facciamo la cinnica Quindi appoggia Tripod era troppo facile Appoggia le mani qua Appoggia Eh Eh Le mani Sì Qui belle tese Tese Non le piegare Mi raccomando Ahia che c'ho le piegondilite Vai su Vai su Vai su Tranquilla Vai su Oh Fatte ragazzi Ovviamente 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 ha fatto tutto lui Allora Brava Madonna niente Adesso io domani C'ho pure la diretta del Climangiaro Ora volevo dire Però posso Posso essere molto sincera con te Bravissima Ma non credo che parteciperai All'Olimpiadi Ma no Ma che delusione Lo so Non credo Ma me lo dici così? Va bene Allora adesso io devo stare così Con le puntine Come le bambine Facciamo l'intervista così vai Tutto Vai Conti vai Vediamoci No vai Asputata no Oh fate sempre così voi Scusate Pure questo Crampi e tricipiti pazzeschi Non diciamo Quadricipiti e tricipiti Allora aspetta che qua Mi sono seduta pure sul copione Pure Riprendiamo un attimo Allora bene Ricomponiamoci Brava È pur sempre una prima serata In televisione nazionale Bene Allora continuiamo Quella nostra intervista A Yuri Keki Dunque la pandemia L'abbiamo fatta C'era la pubblicità L'abbiamo già scarica Sì sì Sono così sulle punte Allora ecco Tu oggi insegni Nella tua accademia Che si chiama Armonia Corretto? Si chiama Armonia? Yuri Keki Academy Diciamo Yuri Keki Academy Che cos'è l'armonia? Beh l'armonia Credo che quando Hai un buon equilibrio No? Tra quello che sei te E quello che fai te E quello che ti circonda Secondo me C'è un'armonia E quando riesci a fare Delle esercizi Delle attività Come abbiamo fatto noi Giocando così Ma in maniera diciamo Semplice In maniera piacevole E riuscendo a mettere Le condizioni del tuo corpo Di fare cose Che magari pensavi Di non riuscire a fare Crea una grande armonia E questo secondo me È molto importante E con il proprio corpo Si riesce a creare armonia E io so che tu hai portato Anche appunto Quest'academy Molto della tua pratica Del tuo allenamento Insieme ai tuoi allievi La praticate fuori No? Outdoor E quindi Avete proprio una relazione C'è un'interlazione Con l'ambiente Con la natura Questo aiuta Secondo te La tua concentrazione La tua performance Proprio fisica Tra le altre cose Noi insegniamo Una disciplina Che si chiama calisthenics Che è una ginnastica Diciamo riportata un po' Scusate il gioco di parole La portata di tutti E quando è possibile E se lo dice Yuri Keki Non ci credete Ecco È così E spesso Quando c'è la possibilità La facciamo fuori All'aperto Anche queste immagini Che vedete qui Siamo sull'alto piano Della Paganella Abbiamo montato una struttura Di calisthenics Su una piattaforma Di un lago Abbiamo fatto un'esibizione Degli allenamenti In questo contesto E abbiamo creato Su di noi E su le persone Che ci guardavano Una buona armonia Perché aiuta molto Detto questo Io non sono Uno di quelli Che deve fare le cose Cruente Col freddo Col troppo caldo Mi piace anche Allenarmi in una bella palestra Confortevole Però quando si riesce A farlo In outdoor All'aperto Certamente Aiuta molto A trovare Quell'armonia Che quando la trovi È fantastico Senti Yuri Tu sei stato E rimani Un punto di riferimento Quando eri un atleta Un campione E ma ancora oggi Appunto Hai detto Io alleno ancora Tantissimi ragazzi Immagino che tu Hai anche Come dire Un senso forse Di responsabilità Rispetto al messaggio Che veicoli Cosa dici allora Questi giovani allievi E giovani allieve Che arrivano da te Cioè c'è anche un messaggio Che va oltre la preparazione Immagino Atletica e fisica Sì Io ho fatto Un'attività Agonistica Per vincere Per cercare di superare I miei limiti E cercare di fare cose Per il quale Il mio corpo Doveva essere stressato Affaticato E portato Oltre i limiti La disciplina Che stiamo Il messaggio Che ci chiamo di portare Non è questo È quello però Di trovare il modo Di quell'armonia E di riuscire a fare Delle cose Che ti fanno star bene E questo È un insieme di cose Non è solo L'attività fisica È quello che mangi Certo È come ti riposi È come vivi fuori Anche dall'attività Proprio sportiva Ecco Cerco di far passare A questo messaggio Nel senso che Non c'è un segreto particolare Per invecchiare bene Io Sono contento In invecchiare Perché l'alternativa Sarebbe bruttina Diciamo Sono contento Però vorrei farlo Il modo migliore possibile E ripeto Non ci sono scritti particolari Se non fare un'attività Sportiva Motoria buona E cercare di alimentarsi A proposito di mangiare bene Tu dici C'è un capitolo Nel libro tuo Che si titolava Che ormai è già edito Se non ero un anno e mezzo Circa Comunque Parli del best seller Il codice Yuri Tu sottolinei appunto L'importanza dell'alimentazione Con un capitolo Che si chiama Nutri il tuo corpo con amore Peraltro dopo Arriverà La dottoressa Antonella Viola Con cui parleremo Immunologa Con cui parleremo Proprio dell'importanza E di quanto Di nuovo La dieta incida Ciò che mangiamo Incida direttamente Sull'ambiente Cosa vuol dire Per te Nutri Vuol dire che Io Ho fatto Quando facevo l'attività Ho avuto un cattivo rapporto Con il cibo Perché non potevo mangiare Devo mangiare poco E quindi Ma era necessario Ripeto Io Fare quel tipo di attività Ti impone di fare delle scelte Certe volte difficili E parlo di scelte Non sacrifici Perché quando una cosa la scegli E sai che è utile Per raggiungere il tuo obiettivo Anche se è difficile È una scelta Si fa Basta E l'alimentazione è stato così Adesso io non voglio più soffrire Io voglio anche Voglio soprattutto goder Voglio amare Il mangiare Quindi ho degli eccessi Ogni tanto Poi ritorno A un'alimentazione Sana Equilibrata Però devo anche Avere il piacere Nel mangiare E si può fare Si può trovare questo equilibrio Allora ti invito a guardare Con noi Il prossimo filmato Che è di una star Di Hollywood Che fa un appello Proprio E lei insomma È una pacifista Ambientalista Proprio sfegatata Molto molto Che come te È stata anche lei In qualche modo Punto di riferimento del fitness Sto parlando di Jane Fonda Ah certo Questa è la ultima decada In human history Quando cambiare Corso Può salvare Unimagine Numbers Of lives And species We have to do this And it's really hard What we have to do Because it's systemic change And it needs to happen Very quickly Hai capito Jane Fonda Un bel messaggio Poi ripeto Se riescono a darlo persone Che hanno la possibilità Di farsi sentire Perché note conosciute Secondo me Aiuta molto Ecco Secondo te è importante Come ruolo Ecco Il fatto che Le persone famose Usino anche La loro notorietà Per veicolare Guarda La meravigliosa Negli anni 80 Con lo scaldamuscolo giallo Allora Yuri Keki Grazie mille Però ti invito Per essere stato a Macondo Insieme a noi No Non lo saluto ancora Che saluti Mi volevo andare via Perché sono stato Più bravo di te A fare la squadra Un attimino Allora Non ti mando via Stai con me Quindi noi Ci colleghiamo Diciamo con Barbascura Perché c'è questo personaggio Meraviglioso Che parla anche Di creature Un po' piccoline E lui ci ha lasciato Un video messaggio Io Mi sono infatuata Di Barbascura Guardiamolo insieme Ciao gente di Macondo Come va? Tutto bene? Oggi vorrei parlarvi Delle lucciole Questi insetti Che nonostante siano insetti Tutti amano Ma a differenza di tutti gli altri Che ai più Fanno schifo Come un piede sudato Le luccioline ci piacciono Sono carine Secondo me Non le avete mai viste da vicino Guarda che schifezza E a me Piacciono proprio per questo Perché fanno schifo Cioè Sono fantastiche Nella loro bruttezza Perché io non sono Lo specista Va bene? O ti piacciono tutti O nessuno Tranne le zanzane No Le zanzane no Non riesco nemmeno A contenere tutto il rancore Che provo verso Le zanzane Ma parlando di lucciole Questi coleotteri Contrano circa 2200 specie descritte E sono un po' Diffusi in tutto il mondo Anche qui in Italia Ma vi dirò di più Alcune specie Sono proprio endemiche Ovvero sono esclusive Del nostro territorio Si trovano Solo in Italia Sono eccellenze Italiche Un po' come i tortellini Evitarare il babà Ma Ma Nonostante siano specie Uniche Esclusive Meravigliose Potrebbero non passarsela Molto bene Sono talmente poco studiate Che ad oggi Ad esempio Non sappiamo Quale potrebbe essere Il loro vero stato di salute Quanti esemplari ci sono Come vivono Cosa fanno nel tempo libero Fanno yoga Boh Non si sa Nessuno lo sa E capisci che questo è un problema È un problema Perché un po' Tutti gli insetti Se la passano malissimo Quindi presumibilmente Anche loro Un tempo signora mia Quando andavi in auto Te ne si spiaccicavano Un sacco Sul parabrezza Invece adesso Vedi che è bello Puoi viaggiare Non c'è più niente No Non va bene È un problema Dove sono finiti sti qua Sono importanti all'ecosistema Quindi è importante studiarli Anche solo per evitare Di minacciarle ulteriormente Perché ovviamente La maggior parte delle minacce Arrivano Da noi Gli umani Forse pure da me Oddio L'urbanizzazione massiva Di boschi e paludi Ha già decimato Numerose specie di insetti Tra cui proprio le lucciole Ma anche il consumo di suolo Nelle aree di pianura Sulle coste O nei fondi valle Preoccupa molto Stiamo trasformando il paesaggio Per far posto Ad allevamenti intensivi E monoculture Da circa 70 anni E se non si sono stufate Le lucciole Di perdere in continuazione L'habitat Scusa Una delle cose Inaspettatamente più drammatiche Per questi insetti Però è la perdita del buio Già lo so In pochi ci penseranno Ma abbiamo territori Con così tanto inquinamento luminoso Che sono bombardate pure loro E a loro il buio serve Perché la bioluminescenza Che ci piace tanto A loro serve per cuccare Quindi eccovi il mio appello Lasciamo le aree verdi intatte Se veramente ci piacciono così tanto Sti insetti Lasciate le loro case in pace E in realtà a tutti gli insetti Orsù E noi ci rivediamo presto Camilla Buona continuazione D'accordissimo Ma grazie a te Barbascura Certo che ci ritroviamo molto presto Iuri Viva Barbascura Barbascura Più lucciole per tutti E meno zanzare Guarda le lucciole Noi adesso secondo me Tra un poco questo studio Potrebbe anche accadere Una magia in questo studio Ma tu te le ricordi Le lucciole in campagna Dove tu scappi Giustamente dopo gli allenamenti Ho vissuto tanto In una casa in campagna Mi ricordo le lucciole del bambino Ma non le vedo più Ha ragione Barbascura E' questa cosa tremenda Mi dispiace Guarda 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 nel nostro studio Te le sto facendo vedere Hai questa fortuna incredibile Le vedi là sopra? Non spaventiamole Qualcosina vedo Guardali Le vedi? Eccole Una Guardali Due Guarda belline Le lucciole Sono creature molto delicate Hanno bisogno del loro habitat E peraltro tu sai Che loro rappresentano Diciamo Lo stato di benessere O meno Dell'atmosfera Che ci circonda E della Del clima Quindi non siamo messi tanto bene Brava Parla di questo perché serve Grazie mille Yuri Kekki Grazie mille Grazie mille 해�e Maria Grazie mille Luca Grazie a tutti Ho